Le sensazioni direi positive, devo dirti, ho trovato dei ragazzi disponibili nell'affrontare questo momento per loro un po' particolare, non si vince da un po' di partite, però li ho trovati abbastanza carichi in questi giorni e partecipi, stanno partecipando tutti, dai più piccoli ai più grandi e sono convinto che secondo me ne usciranno fuori perché è una squadra che secondo me ha qualità, io gliel'ho detto, gliel'ho ripetuto, non è che è arrivato il mago, io ho detto solo che ho visto in due allenamenti che c'è molta qualità, bisogna un attimino un po' fare delle scelte pure nelle giocate, magari c'è paura, c'è paura perché non si fa risultato, però gli sto dando tranquillità, per quanto riguarda la piazza, questa è una piazza importante, una piazza che io ci sono stato vicino pure ai tempi della Serie C, si vociferava, ho avuto qualche colloquio in passato però, poi non si è fatto più niente, però era una piazza che io ambivo da un po' di anni.